sui social i leader della lega ed i fratelli d'italia rilanciano il discorso della showgirl che via instagram ha condiviso una riflessione contro il politicamente corretto scala la classifica delle tendenze social il curioso binomio elisabetta canalis matteo salvini dopo che le dichiarazioni della prima contro il politicamente corretto colpiscono nel profondo la sensibilità del leader della lega che le rilancia su twitter penso che la direzione che stiamo prendendo è quella del dovere esprimere un pensiero a senso unico censurando e censurandoci per il terrore di essere bollati come misogini omofobi o razzisti l'italia è un paese libero e così dovrebbe rimanere ha esordito la ex storica velina di striscia la notizia in diverse storie instagram pubblicate per condividere una riflessione che si augura sia la stessa di chi la segue poi il riferimento all'europa che dice non deve omologarsi alle follie del politica li correct che si vedono sempre più spesso altrove anche perché a livello di diritti umani e di umanità in generale abbiamo tanto da insegnare a molte nazioni vedo con preoccupazione persone completamente fuori di testa che ci impongono via social cosa sia giusto o sbagliato cosa dobbiamo dire o cosa non dobbiamo tutto in nome dell'uguaglianza o dei pari diritti ha aggiunto ancora canalis confortata dal sostegno di salvini ma pure di giorgia meloni anche lei pronta a fare delle sue parole il contenuto perfetto di un post instagram in questo modo si dividono le persone invece che unirle ha proseguito ancora elisabetta canalis che vive da anni a los angeles negli stati uniti insieme al marito il chirurgo americano brian perry e la figlia skyler eva di sei anni spero che la nostra vecchia europa con le sue radici e la sua storia riesca a salvarsi da questa ondata di follia in arrivo che divide le persone invece che unirle fomentando un bullismo collettivo spacciato per difesa dei diritti delle minoranze che hanno le loro idee e le loro sfumature ideologiche che non vogliono essere messe tutte sotto lo stesso cappello per la modella inoltre la differenza la farà chi saprà ragionare con la propria testa senza farsi intimorire dai buonisti e cattivisti che amano mettere all'agonia chi osa avere un'opinione grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti